è rosso è rosso rosso è rosso è rosso ancora non cacci niente ecco espulsione espulsione del giocatore avversario per farlo sull'ultimo uomo può entrare il soccorso calma calma ragazzi Michele Michele è stato atterrato a Tei di Mata proprio al limite dell'area di rigore e ci è uscita anche un'espulsione 0-0 fino a questo momento siamo ai scampoli della fine è stato atterrato Tei di Mata che si è ripreso qua c'è Nicolo che prende consigli dal mister Tucco bravo Mata c'è un calcio di punizione ghiotta ma ce l'abbiamo avuto anche nei primi minuti 0-0 qua al comunale di Fara San Martino adesso c'è un calcio di punizione dal limite al nostro favore sul pallone sul pallone c'è il numero 10 Michele Daniello è stata formata la barriera e prendi la porca e prendi la porca